no no era in marcia parcheggiato no è quello se succede qualcosa almeno chiama che prendiamolo a prenderlo nel caso com'è aspa? grandi manovre il secondo non l'avevo visto eh penso stava guardando questo ma non ha visto che secondo non ci sarebbe questo io voglio di questo non 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 se c'è il benzina ce l'ho io ce l'ho io il benzina eh si devi essere anche nella giornata giusta se ci sei con la testa o no bello hai avuto un'esitazione prima di prendere il sasso hai avuto un attimo di esitazione hai visto che ho già il piede fuori? eh non eri convinto ho sbagliato dagli la e mi ha perso eh ma non è che posso mettere la quarta quella terza il terzo l'hai fatto la così quando l'ho toccata mi ha fatto tutto eh hai visto il terzo hai visto il terzo che l'ho fatto la quando c'è uno l'hovedo 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 Grazie.